Sono Julia Child, bon appétit! Sì, e può parlare con me? Lei ha qualche autorità? No. Hai sentito che lei è successo? Showtime ha comprato il mio blog per farne una miniserie. Io lo potrei fare un blog? Io di pensieri ne ho. Scrivi un blog sulla cucina? Io non sono una vera cuoca come Julia Child. Julia Child non è sempre stata Julia Child. E se andassi a una scuola di cucina? Conju! Il progetto Julie barra Julia. Proverò tutte le ricette del libro di Julia Child. 365 giorni, 524 ricette. Sto rischiando la salute per un compito folle. È una follia? Sì. Columbia Pictures presenta... Dovevi vedere come mi guardavano quegli uomini. Ma poi hanno scoperto che non avevo paura. Oh, Julia, fai sembrare tutto così facile. La storia di un mito e il tuo libro è destinato a cambiare il mondo. Che dette a una ragazza la ricetta per cambiare la sua vita? E se non rispetto la data, avrò sprecato un anno intero della mia vita. C'è tutta questa robaccia sul pavimento? Oh, non vi scusate mai. Non abbiate paura. Dalla scrittrice regista a Nora Ephron. Quanto è buono. È proprio buono, vero? Neryl Streep. Amy Adams. Stavo allegando e lei mi ha tirato fuori dall'oceano. Non esagerare. Che c'è per cena? Che c'è per cena? Oh, mio Dio. Lei non ha nessun talento per la cucina. Giulie e Giulia. Basato su due storie vere.